Dopo l'evento storico registrato nell'anno 2017 nella vallata Stilaro per l'arrivo delle reliquie di San Francesco di Paola in occasione della seconda missione interparrocchiare tra Pazzano, Stile e Bivongi, il credo verso questo santo taumaturgo, dopo essersi affievolito per alcuni secoli, si è risvegliato. San Francesco di Paola dunque che si pone accanto al santo d'Assisi che nella vallata ha una particolare venerazione. A Bivongi, nella chiesa santuario dedicata al padrono San Giovanni Battista De Collato e alla compadrona Madonna Manostra, si trovano la statua e su una colonna vicino all'altare un basso rilievo di entrambi i santi. Da inizio primavera in paese accade un fenomeno strano legato sicuramente ai due santi. Nella parte alta del paese, in via Matteotti dove sorge il museo degli emigrati, a pochi passi dal municipio dove sono esposte due statuine dei santi, la mattina tra le ore 7 e le 8 il raduno di tutti gli uccelli, specie di rondini sistemate sui cavi telefonici ed elettrici e sotto i balconi che sovrastano il museo. Salvatore Dassone, presidente del museo dell'emigrazione e gli abitanti del rione non si pronunciano, ma fanno capire che quanto accade è motivato dalla presenza di San Francesco cui lo stesso Dassone è molto devoto. Qualcuno parla di prodigio perché tale fenomeno si verifica solo in questo punto del paese dove convergono centinaia di uccelli, tanto che quelli che non trovano posto sui cavi aerei si sistemano sopra il balcone che sovrasta il museo. Ma la cosa curiosa è che una volta appolleati sui cavi gli uccelli non guardano in direzione del paese, ma verso l'ingresso del museo. Qualcuno interpreta il silenzioso raduno come un saluto ai santi prima di cominciare la giornata, ricordando San Francesco che predicò agli uccelli e fece stare chete le rondini. Fatto sta che a quell'ora nel cielo di Bivongi pochissime le rondini che si vedono volteggiare, come si nota qualche incredulo mattiniero raggiunge il museo dell'emigrazione per esistere a questo simpatico raduno san Francescano che richiama alla memoria quanto il santo predicava agli uccelli e che San Buonaventura così ricorda. Finalmente, compiuta la predicazione, santo Francesco fece loro il segno della croce e die loro licenza di partirsi. E allora tutti quelli uccelli si levarono in aria con maravigliosi canti e poi, secondo la croce che aveva fatta loro santo Francesco, si divisero in quattro parti e ciascuna schiera andava cantando maravigliosi canti. Da ricordare che Bivongi ha un legame particolare con San Francesco d'Assise e San Francesco di Paola. Con quest'ultimo, la storia del paese ci riporta al 1700, quando i padri minimi convocarono al santuario di Paola il pittore bivongesi Scepolo di Francesco Solimena Tommaso Martini per commissionargli il dipinto di San Francesco. Il parroco Don Enzo Chiodo ha sottolineato che È significativo che tutti i tre paesi custodiscono una statua, un'immagine o un'icona di San Francesco di Paola, segno che i nostri padri evidentemente avevano riconosciuto in quest'uomo calabrese qualcosa di particolare. È molto venerato anche nei nostri tre paesi. A Stilo c'è una chiesa dedicata a San Francesco. Il drammarico che nella chiesa del santuario non siano rimaste tele del santo è una bella tele di San Francesco, raffigurante il volto con una folta barba che il defunto sacerdote Don Cherubino Raspa aveva portato nella sua abitazione in attesa di farlo restaurare, non si sa che fine abbia fatto o se si trova a Roma presso casa dei parenti del parroco. Qualche anno fa è stata restituita un'altra tela, sempre proveniente da Roma, ma non è quella di Don Cherubino e forse non è da attribuire nemmeno a Tommaso Martini. Purtroppo a Bivongi dipinti del santo non ne sono rimaste, ma solo copie su tela fotografica realizzata dalla locale associazione del fotoclub che ha esposto nella mostra fotografica tenuta nella sala del Consiglio Comunale. La chiesa da pochi mesi si è corredata da una piccola statua del santo concesse in donazione dal Presidente del Museo dell'Emigrazione Salvatore Tassone che il parroco Don Enzo Chiodo ha esposto vicino alla cappella di Sant'Antonio o meglio vicino alla tela della Madonna del Rosario. La fede per questi santi, ricordiamo, ogni anno porta non solo i bivongesi ma tanti cittadini della Vallata Stilaro in pellegrinaggio a Paola e ad Assisi.